Il prestigioso giornale Financial Times ha recentemente posto sotto i riflettori la città di Trani e il suo castello Svevo con un articolo firmato dal giornalista e storico inglese William Derren Pyle. L'articolo, che mette in luce l'impronta di Federico II nella regione, descrive Castel del Monte e il castello Svevo di Trani come un capolavoro architettonico che evoca sensazioni di modernità e fascino. Tale esposizione su una piattaforma globale è senza dubbio un'opportunità straordinaria per promuovere il territorio della Bat e attirare nuovi visitatori e investimenti. Il giornalista britannico, noto per il suo interesse nel cristianesimo orientale, non solo ha lodevolmente esplorato il patrimonio storico di Trani e dei suoi dintorni, ma ha anche omaggiato la sua bellezza senza tempo, condividendo le meraviglie dei castelli Svevi della zona con il pubblico internazionale. Il fatto che un giornalista così rinomato abbia dedicato spazio e tempo a questa regione è un tributo alla sua importanza storica e culturale. Tuttavia, mentre Trani e il Castel del Monte godono di una rinascita sotto i riflettori internazionali, la città è stata recentemente scossa da due eventi che evidenziano problemi ben più profondi, una sparatoria in discoteca e atti di vandalismo da parte di una baby gang. La sparatoria, avvenuta in una discoteca nella periferia a nord di Trani, ha lasciato una giovane ferita da un proiettile. Questo evento ha scosso la comunità, evidenziando la crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica e la violenza giovanile. L'episodio si collega a una serie di incidenti che hanno turbato la tranquillità della città, tra cui atti vandalici e aggressioni. Tra questi, la recente azione perpetrata da una baby gang, che è poi diffusa sui social da un cittadino che ha ripreso l'accaduto, ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i residenti. L'aggressione a un'auto è solo l'ultimo di una serie di episodi che minano il tessuto sociale di Trani, gettando un'ombra sulle sue bellezze storiche e culturali. Il sindaco Bottaro ha annunciato la convocazione di un tavolo congiunto sulla sicurezza per affrontare questi problemi crescenti, ma è chiaro che c'è bisogno di un impegno ulteriore da parte di tutte le parti interessate per affrontare efficacemente la questione della sicurezza pubblica e garantire che Trani mantenga la sua reputazione di luogo accogliente e vibrante. In conclusione, mentre l'attenzione internazionale su Trani e Castel del Monte offre opportunità uniche per lo sviluppo e la promozione del territorio, è fondamentale affrontare le sfide interne legate alla sicurezza e alla violenza giovanile. Solo affrontando tali questioni, Trani potrà davvero realizzare il suo pieno potenziale come gemma nascosta del sud Italia e ritornare perla.